Diario del Comandante, decimo giorno di viaggio. Dopo tante peripezie sono riuscito a trovare un parcheggio qui a Pisa, dopo aver girato ore ed ore ed ore ed ore. Bene, mi accingo a raggiungere gli altri ragazzi che hanno appena beccato un ennesimo ospite. Vi aggiorneremo su questo individuo e sul suo arrivo. A più tardi.